Questo pomeriggio siamo qui per questa eccezionale straordinaria festa per celebrare questo matrimonio di Luis e Nicole. Questi due ragazzi che si conoscono già da qualche anno si trovano qui oggi a celebrare questo bellissimo momento di festa, il loro matrimonio, perché in questi anni in cui si sono conosciuti giorno dopo giorno hanno deciso di andare avanti e di percorrere questa strada della loro vita in accordo, si sono messi d'accordo per iniziare questo cammino sin da oggi insieme. Ciao ciccia, oggi è arrivato il nostro momento, oggi possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. Con oggi si compre il nostro desiderio di vivere una vita di coppia, da moglie e marito. Oggi lasciamo le nostre famiglie, ed è difficile, ma noi creeremo la nostra. Come abbiamo sempre fatto, affronteremo assieme qualsiasi difficoltà, portando sempre con noi il nostro hashtag nonostante tutto. Che Dio ci benedica, ti amo. Ed eccoci qui finalmente, il nostro giorno. Ancora non mi sembra vero che da oggi saremo io e te. Eppure è così, io e te nella nostra casetta. Ne abbiamo passate tante, anche il covid. Ma con il nostro, nonostante tutto, siamo arrivati fino qua, al nostro matrimonio. In questi anni mi ha insegnato tanto ad essere determinata, ambiziosa, a non prendere tutto troppo seriamente, a ridere di me stessa e tanto altro. Grazie perché sai come distrarmi e tirarmi su di morale con i tuoi soliti dispetti, che strano ma vero amo tanto, e di cui non potrei mai fare a meno. Amo quando mi capisci con uno sguardo e quando leggi ogni minimo cambio di espressione sul mio volto. Amo tutto dello stare con te. Con oggi ti prometto che ci sarò sempre e che mi impegnerò a renderti felice sempre. Ti amo. E ricevi questo anello, ricevi questo anello, il simbolo del mio amore e della mia fedeltà. Ti amo marito. E ricevi questo anello, ricevi un po' di terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.